Benvenuti a tutti in un nuovo video di League of Legends Oggi siamo qua per rancare Almeno, quello è l'obiettivo E poi se di ranchiamo quello è un altro conto Allora, solo Forreva l'alone mi chiamavo, no, non è colpa me Nel frattempo, giusto per non far vedere Guardate quanto è bello Game of Thrones poro, è bellissimo Ci fate mettere Altro che sto Cosettino qua, fruttissimo Meglio questo Vogliamo un dannato Poro Gameplank Vai, lo vogliamo noi Accetta Non si sentono i rumori di League of Legends Ovviamente perché l'ho mutati Allora, giusto perché non ci piace Ci bandiamo subito Karen Poi giusto perché non ci piace nemmeno lui Bandiamo suo frattempo gemello Che non è tanto gemello, però è scimunito Ehm Ci bandiamo E vi è stato un po' di Fata, Vain Bene, si vai Ci stanno i 4 Se lo sanno giocare In piazza a prescindere Da support Ergo il nostro overlay lo possiamo ottenere Se vado mid per rendere gli out Così ancora meglio ci strebbe bene il mio layout Ovvero questo qua Vado jungle al che dita Vado jungle, vado jungle No, vado lane Preferisco allenare, allenare Mi trovo scomodo a non allenare Allora, lui Allora, lui, io No, 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 no Oddio No, no, Singed Singed, Singed Vi faccio vedere perché è il mio preferito questo qua Gameplay anche lui Babbo Spero sia Babbo Rengar jungle Un shot però No, ma Sì, è vero, ottimo scudo H2 Non mi piace Ci sta mettendo troppo a scegliere il suo pick H2 Non mi piace Capitale Non mi piace Anche Zed ci sta mettendo Siamo Due tank Un tank 2 ad Uno morto, grazie No, da quant'è che non vedevo queste cose che si sbucciavano i champion Tank 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 E' tanto tank A posto Quindi Io qua in mezzo taglio il caricamento Nel frattempo vi lascio poro Tanto, lo so che vi piace poro E' inutile che lo negate E' bellissimo un po' All my way All my way Come che si chiamava questa canzone To shake or not to shake Ok Vi avvertirò La cosa qua non sarà perfettamente precisa Però Ci provo un attimino Vabbè Non riesco a sistemare la parte della minimap Perché mi si sincronizza con quella sopra Cosa che non c'entrano a mazza Più o meno Vabbè I personaggi si vedono perlomeno Invece qua sotto c'ho Tipo Non si vede una mazza Fa schifo Forse così è meglio Ma Buh Uhhh Stati in red No Stati in red Nessuno è più stato da red O da blue Quasi nessuno Ma che bello Tut 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 Sì No Tristezza Vimplaz Puzzate No I hear you Adesso io non puoi modificare La cosa La singola mi dispiace Mix 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 Dai Follow-a, follow-a Follow-a, vieni qua Dov'hai? Ma che Eh basta che mi apriamo la pozzoncina così e via Dai che devo arrivare a 800 monetine Oh no Poi mi spiega come ha preso Non ma vuoi Via To shake Pensiamo subito con questo oggettino così Gli diciamo vai vai i danni di gameplay Tanto la Q è un Base cut Morto Anno Sweepo No Mix 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 Nah No Ok se lo gioco usava a fare quando piazza è un barile con l'altro Mi e' un personaggio Il caso non è possibile Non è possibile E' un personaggio Alcantor Da' un personaggio E' il personaggio Che E' un personaggio Dai mana caricati Che vuoi fare tu da sola scusa Rengar c'è il 6 No, un'altra volta Che se ride Balla, 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 balla Non, un'altra volta Non, un'altra volta no stop nice Sì 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 Non mi fai danno No, questo è usbato io Putta Scusi, permesso Devo fare le pozzate Mi vuole tirare l'ultimate così a caso, sinceramente io Non so voi Perchè scappa Non faccio danno io An enemy has been slain An enemy has been slain No, 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 no No, 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 no Ma è Nelma Mmm GG Ovviamente scherzo Sono un po' troppo gherito Consiglio All my way Quello sopra è quello che mi sembra più azzeccato di overlay Cacchia Forse un pochettino devo spostare l'iconcino Però per il resto è giusto O forse è sbagliato proprio quello che ha fatto l'overlay Allora fin fine non è che me lo so fatto fare Era gratis quindi 140 di danno Oh powder Verena non te lo becchi tutto comunque Pa 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 che 2 2 2 3 5 Dove a kill Io che mi difensivo? Vedrò che succede Sì mamma mia la difensività di Zouro vai vai no perché l'ho interrotta l'auto attacca? sono un babbo or not to shake solo no 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 mmmm bello ranga la botta non mi ricordo se l'ho appena visto troppo o meno dai crepatelo quello anche se si non è decisivo uno di altri è finito però finito solo se fa il primo la cosa che mi piace è finito che ho fatto Ah, che voglia Non è buona come cosa che sto facendo Però vabbè Che scherzai Ma è una connesso lì Mix mix No No Porca arriva un po' di gente Sì, nel frattempo sto aspettando una canzoncina di sottofondo io Sì 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 Il vino Sì Sì Oh Cavolo Eh stanno arrivando qua Non ho escape via Pure Ah Io potrebbe farmi questo qua Ora qua Ora Oh 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 Cavolo Heard You Oh 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 Allora Oh 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 Vamo Ok. On my way No Potevi aspettare a distruggere Alla Alla Va male per Efectivamente I did not I did not I did not I did not E' la pausa E' la pausa E' la pausa No cavolo Si erano fermati di inseguirmi Ahia basta torre Dai Cosa? Ah della rigenerazione base ok Stavo già impazzendo Sti cavoli 150% in più di rigenerazione base Ahia Andiamo Salvatore Or not to shake Bell Vai single sputa che tutto Sputa tutto Spit it out Ahia 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 permesso arrivo da te si ok dopo vieni qua vieni qua adoro vieni qua vieni qua annaggia questa vieni qua vieni qua vieni qua a a a no Ok, non serviva Ok, adesso c'ho una rigenerazione della vita un po' troppo alta Non so però se aumenta anche quella delle pozioni, boh, chissà Non è che sono big pro in the world Crossing rimane il mio preferito anche se lo gioco male Perché teoricamente dovrei fargli la boccetta, l'archangel staff Però non lo voglio Preferisco così la build È comunque l'equilibrato Salve Oh, tacchi Vieni pure, vieni, vieni Cacchio, attiverai l'ultima Perchè dovremmo riportarla? Oh, perché dovremmo riportarla? Oh, ecco Oh, ecco Oh, ecco Oh, ecco Ah ma c'è un bel po' di Genta qui Nice, 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 nice E' rimasto viva, haha Ha, haha Ah, sta volta che mi è me Winto E dai Torniamo alla nostra interfaccia E' una sorta di caricamento Cioè sta per arrivare questo Gigi Free point praticamente Però sono Silver 4 quindi è ovvio che vinco così Flamme di Aldea Vabbè Vabbè Per questo video è tutto Quindi è già durato tantissimo 40 minuti cacchio Quindi al prossimo video Ciao ciao